Buongiorno amiche, buongiorno amici, ho tanto da fare, ma tanto da fare, sono tanto indietro Ma perché? Ma perché? Lo so solo io, ma non vi volevo trascurare oggi Lo so che ce ne ho le amiche che aspettano la chiacchietta, altre ne farebbero anche a meno Ma non dici mai niente di utile? Oh, ma tutto deve essere utile, tutto dovete mercificare Sentite un po', le chiacchiere e la compagnia, ma cosa c'è di più bello? E così sia Lo so, stamattina, da ieri che faccio di quelle rimedi un brutto, però no, questa non mi dispiace Buongiorno, ci siamo alzate presto, siamo uscite nel freddo, la minuccia un po' camminava, un po' si impuntava Vieni in braccio, carrello, spesa, ho fatto il giro di Peppe, ho fatto tutto un giro, tutto il periplo periplabile Per andare, fare la spesa e tornare, giornata di mercato, domani arrivano gli amici, devo cucinare No, devo, voglio cucinare cose buone, verdurelle di stagione che vengono da un posto bello che è il lago di Bolsena Eh, quanti orti a Bolsena, e noi aspettiamo il Bolsanese il mercoledì Eh, sì, ma è una guerra, è una guerra, quello alle 8 ha già finito tutto, sono andata scapicollandomi Eh no, quello è finito, quello è finito, quello è finito, arca miseria, però ho trovato, ho trovato cose, beh Eh, perché quando io ho gli ospiti, non mi viene da fare, che ne so, le cose su quelle Mi viene da mettere tutto in riga, no, scherzo, però mi piace fare le verdure Ho avuto amiche in quei dei castelli, quando venivano a me, ci fanno le verdurine, perché? Non so perché la gente non si fa le verdure, perché te la lavi? Eh no, la metto sporca, però sì, mi piace comprare la verdura fresca, di stagione, cucinarla Che poi sembra una roba così complicata, ho comprato le puntarelle, ma non le farò come puntarelle Ho preso la cicoria, ho preso la verza, ho preso le rape, anche le loro cime Ho preso le cipolle, ho preso l'aglio, due mele mi ha dato ad assaggiare il signore Ho preso i ceci secchi di Bolsena, cosa hai preso? Poi sono andata dal macellaro, io non vi dico cosa ho preso, a parte una ricottina di pecora No, ve lo dico, ho preso le salsicce, com'è che le chiamano? Oh, non mi ricordo Le salsicce, non sono sanguinacci, ma sono una tipicità di qua E quelle le fa proprio bene quel macellaro, con la carne loro, con tutti gli animamenti qua, insomma, all'aperto E va bene, quindi ho preso le meglio Però c'è un'altra cosa, meglio, come sapete qua, sta a cavallo tra Lazio e la Toscana De che vuoi campare? De salumi, ma magari io potessi Mi svicolo una volta al mese E ho preso delle salsiccette Come mi viene in mente, come le chiamano? Poi oggi mi hanno spiegato un'altra specialità del posto Che mi sono sentita male quando me l'ha raccontata Ho detto, no, questa è la prossima volta E quindi ho preso una ricottina di pecora, di quelle belle di pecora Cioè, singhiozzo aiuto E quando riesco a non contrastare i movimenti del mio diaframma Il singhiozzo poi non mi si riproduce ogni tre per due Se io respiro male nell'attimo in cui ho quel sobbalzo di diaframma È la fine, non mi passa più A volte mi faccio proprio un urlo No, ma meno male che non mi carico Se no, ovviamente non lo carico Il singhiozzo Uh, mamma, la batteria è scarica Vabbè, comunque Guardi che ci parli È sempre dei fatti miei Che volete? Io vi devo parlare dei fatti degli altri Allora, ricottina di pecora Asciuttina, quella vera, quella buona Tum, per la camilla Le salsicce scure Che le fanno come sanguinacce o dolci Da noi i sanguinacci erano belli grossi, a me ricordo Morbidi Queste si possono mangiare crude, signora Perché la mia amica Le ho preso proprio quelle boh Ma domani c'è un'altra specialità Salumosa Che vado a prendere da un'altra parte Domani mattina all'alba Beh Je suis très contente E poi ho le patate dolci Che le ho prese a Viterbo Perché qui in arriva non le usano Belle, toste Poi che c'abbiamo? Devo andare a recuperare le uova Vabbè, comunque C'ho da sistemare casa Sto aspettando il minore della legna E speriamo bene Perché c'hanno solo per due giorni Ogni 15 giorni me la faccio portare Perché se no mi ammazzo la schiena Mi ammazzo la spalla E mi è passato Sto bene Però mi fanno ancora male le mani Tacci la mia artrosi E quindi ecco Ho trovato il sistema La divido in due scariche al mese Siamo a gennaio Quindi avrò Due scarichi La prossima Due scarichi a febbraio Due scarichi a marzo Perché marzo fa sempre un becco di freddo Uno scarichino che non ce lo vogliamo fare Ad aprile per forza E forse anche a maggio Perché la sera Io poi sono di quelle che la stufano La spegnerebbe mai Com'è che dicono qua Non spegnerebbe Non spegnerebbe Vabbè no A volte Hanno anche di quei verbi Che mi fa morire La titti poi Poi uno dice Il dialetto è una sintesi No non è vero Perché a volte ci sono dei modi di dire Che sono ancora più lunghi In dialetto Che in italiano Mi piacciono i dialetti Io li amo i dialetti Riesco anche a sgamarli nel francese I dialetti Ui mamma c'è un modo di parlare Non so se è il canadese Ui mamma c'è un youtuber Che parla di un... Ma io non la posso sentire Però fa delle cose belle Però fa una francese Mi sembra una calabrese Senza offesa per i calabresi E che con l'inflessione forte Va Immaginatevi con tutte le altre lingue Però capite Quando ci si infila Un'inflessione strana Nella riproduzione Poi quella Deve essere anche madrelingua Ma è moro Ma è moro È bello È bella questa cosa Che possiamo ascoltare Tanti modi di parlare I coreani Io ne ascolto tanti Ne ascolto Non li ascolto Tolgo il volume Che tanto non capisco niente Mi dà solo fastidio Però sono allegri Mi metto un'allegria Quindi a volte Ascolto Tutti Dagli arabi Giapponesi Cinesi Pakistani Cileni Seguo dei canali youtube Cileni E c'è gli argentini C'è gli messicani O le canadesi Spagnoli Mi piace Mi piace proprio Questo mondo creativo Che poi Non capendoli Non lo so Se sono persone Simpatico Antipatiche Ecco Perché in italiano Non lo so Che ci sono Antipatiche Sono antipatiche Anch'io Che importa Mica dobbiamo piacere Dobbiamo cercare Di non farci del male Ma mica Ci dobbiamo piacere Per forza Mica dobbiamo Proprio Eh no Santa patria Allora questo Venite qua Che mi devo spicciare Che mi lascia a piedi La batteria E non ho il carica Ho un carica a batteria Che è lungo 8000 metri Ma dove sta E sta Non è qua Dov'è? Di sopra Di là Di sopra No in camera mia Va bene Qui abbiamo la tazza nuova Di Tiger Guardate com'è bella È cicciona È pulita I puntini sono Adesso vedete le ombre Sono proprio della Della ceramica Qua Della porcella ceramica È bella dura È bella pesante È bella piatta Vedi le pompe È grossa Ci sta un sacco di roba Il nuovo È quella di quest'anno Il San Valentino Ma il San Quel che vi pare È una Vedete che c'è il cuoricino Guardate il mare È bellissima L'ho vista da Tiger Camilla La porti a mamma Carina Carina La mia bimba Ieri sono andata in città A cercare bottoni Non li ho trovati Cioè li ho trovati A parte cari A satanati Ma non proprio Nel numero Allora Siccome devo fare una cosa Devo fare mille cose A mia figlia Non mi fa fare niente Dimmi per me C'è l'ho lì Un sacco di roba Che vorrei farmi Ho deciso Come utilizzerò Tra l'altro Il filato Che mi ha regalato La Miki Il mohair Con la Shetland Speriamo che venga bene Perché Perché Mi sono fatta regalare Dalla mia bambina Ho detto Stampalo a mamma Per piacere Il pattern Della signora La signora Fassio Il Annika Ah mi piace Allora Diciamo che La signora Fassio Fa delle maglie Molto Scollate Molto aperte E vabbè Quelle ce le possiamo Anche modificare Se ci piace Tutto l'ensemble Questa secondo me Per il mio gusto Me l'ha azzeccata Come misura Però se si vogliono Un po' modificare Anche un bel esercizio Con la nostra intelligenza Se abbiamo un po' di pratica Se vogliamo I capi un po' più scollati Un po' meno scollati Facciamo due calcoli Non sono delle grosse modifiche Che dobbiamo apportare Poi io credo Che la signora Fassio Una volta che si dimostri Che abbiamo acquistato Il pattern Un aiutino Ce lo può anche dare Poveraccia Ho detto la mia Oh mi piace l'annica Mi piace un sacco Mi piace Mi piace Quella costruzione Dietro Che pensate un po' Simili ne ho viste Già Andatela a vedere L'annica E dico Dio Tira indietro le spalle Quella cosa lì L'ho vista In altri progetti In questo invece Quel tipo di Manica Di attaccatura Di costruzione Mi ispira Mi ispira lo scollo Mi ispira La Le proporzioni Quanto sta scossato Dal corpo Le mani Che bello Bellone Date retta Alla signora Fassio Che vi dà anche I consigli A parte che vende Dei filati meravigliosi Su come Scegliere Il filato Nel senso Che filati Tinti Stampa No buono Perché Non fa vedere Diciamo Il motivo Ha un motivo Centrale Sul busto Che mi piace Sono quei motivi Geometrici Che io adoro E quel motivo lì L'ho già fatto Però mi ricorda Gli anni 80 E Mentre con i bottonati Non ci sono problemi Date retta Insomma Un po' La texture Che così E poi buttate Mi piace L'annica E vai Quest'anno Mi vedrete Acquistare Meno riviste Perché ricomincio Ad averne tante In giro per casa Anche se È un appuntamento Che mi garba Ho deciso Che quest'anno Mi darò un po' Di più ai manuali Perché ce n'ho ancora Un po' In coda Che vorrei avere A casa Sia di ricamo Che di maglia Che di uncinetto E quindi Quest'anno Mi voglio integrare Voglio integrare La mia biblioteca Con dei manuali Ormai Ho questo appuntamento Bimestrale Fisso Con il Marie Claire Idee Mi regalerò Dei pattern Allora Mi voglio regalare I pattern Di Beagle Knits Quello Ha fatto i tutorial Sul Il ferai Vabbè Gli scaldamani E quindi Mi voglio regalare Il pattern Che li comprenda Tutti Credo Non so Devo buttarci un occhio Ci sarà il pattern Non sarà solo il tutorial E per il prossimo Natale Li voglio avere a casa Voglio avere Dei pattern Possibilmente In italiano O in francese Perché io L'inglese Mi sta proprio qua Di costruzioni particolari O di golf Ovviamente Ma soprattutto Le costruzioni Allora La signora Fassio Mi piace come spiega E quindi Ok La Teti Della Teti Ho già due progetti Tre progetti Oddio manco mi ricordo Ma c'è l'ultimo golf Quello con tutti Quei fioroni Intorno Stilizzati Che è adorabile Poi io Lei La voglio collezionare Tutta Perché mi piace È carina Fa dei bei Come si diciamo Dei bei video Mi piace il suo gusto colore Mi piace la sua ricerca Dei filati Mi piacciono i filati Che propone Mi piacciono proprio Quei colori I suoi vestiti Giù sono la mia amica Stava dicendo Oh vorrei i suoi vestiti Anch'io Mi piacciono un sacco E Quindi La Teti Beagle Knits La signora Fassio Poi ce n'ho Alcuni nordici E o stanotte Ne ho scaricato Ho fatto uno screenshot Diciamo Alla traduzione Norvegese Da norvegese Mi pare O finlandese Di un pattern gratuito Che ho trovato Come link Link A una rivista Sapete quelle Come c'erano una volta Quelle femminili Tipo Mille idee Dove si parla di cucina E c'è E questa rivista Nordica Propone anche Maglia Ricamo Bene E c'è La bloggerly La son accidente Che propone Alcuni progetti Che poi Compaiono Nella Rivista online O di quel genere Là Tipo intimità Sta roba è qua Cioè Chiacchierano di tutto E allora Ieri sono andata A scuriosare Tra Quei pattern Gratuiti Messi a disposizione Che sono stati Occasioni Di articoli Dove va che carino Una mia amica Che no Io i feri grossi Mi fa male le mani Però Ha da smaltire Un sacco di filati Perché ne vuole Comprare di nuovi Quindi si è messa lì A unire Ha fatto dei grandi Scine Quei feri del nove Mi è piaciuto tanto Bene Ne farà altri Allora Gli ho trovato Quel progettino Gli ho screenshotato Con il tradotto Con il traduttore Googoloso E spero L'avere fatto A cosa contenta Tutto A tocchi A tocchi scelti bene Spero Glielo ho inviato Quanto è stato divertente La giornata di ieri In giro Ecco Non ho trovato i bottoni Cerco dei bottoni Ce li ho trovati Ma Quelli che servono a me Nella misura che servono a me Sono solo tre Avevo bisogno di sentir Camilla Perché andranno In un cardigan Che mi ha ordinato Mi figlia Che per me Poi sono sempre occasioni Anche di lezioni Di chiacchiere Quindi Vabbè Sono sempre delle belle opportunità Almeno Poi se le mette lei Vabbè Consoliamoci così Però Non li ho trovati Nel colore Che cercavo Nella misura Che serve a me Ce ne erano solo tre E cerco i bottoni Quelli a pastiglia Piatti Diciamo O leggermente bombati Con tre centimetri Circa e mezzo Di diametro In resina O plastica Trasparente Possibilmente Non rovinati Dallo sballottamento Dei cassetti Ecco Mannaggia E C'erano colori Che non mi servivano Oppure erano piccoli Un centimetro e mezzo No Li vogliamo grandi Perché poi vedrete Che cosa ho da fare Sto smaltendo anch'io Quest'anno allora Starò buona Comprerò Quasi niente Di filati Ma quest'anno Li ho comprati Ma come viene in mente E Forse Figuriamoci Nel 2023 Non ho comprato filati L'ho comprato E con Vabbè Comunque Devo smaltire cose Che ho Alcune le smaltirò Lavorandole Alcune le smaltirò Mettendoli al bando Via Eh sì Ho bisogno di spazio Poi ci sono cose Che non No Quindi le metteremo A pacchetti Stiamo Ogni volta che lo faccio Poi le riprendo Poi le smetto Ho capito di che cosa Mi posso liberare Ok Poi ve lo dirò E E quindi Ci sono dei buoni Propositi del 2024 Questi Quindi Smaltire filati Acquistare pattern Stare brava Con le riviste Tanto le ultime Non è che mi hanno Esaltato tantissimo Sì certo Le ho prese Perché c'era comunque Qualcosa che mi interessava Ma sono rimasta delusa Dalla proposta natalizia Di Non mi ricordo più Delle due riviste Quindi non le nomino Non mi ricordo O più maglia O burda maglia Mi ricordo Una delle due Aspettavo Questa maglia Natalizia Naceo feca Di proposte Che sono rimasta male Veramente male 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 E Quindi Allora E quindi starò brava Anche perché Cominciano ad avere Quelle pile di roba In giro Quindi starò buona Quindi Ricominciamo Filati Li devo smaltire Però ce l'ho già in testa Che vorrei acquistare Acquisterò pattern Perché ho già Le idee chiare Quindi acquisterò pattern Sarò brava Con le riviste Smaltirò filati E farò progetti A raffica Per la mia bimba Sperando che mi lasci Anche il tempo Di fare qualcosa Per me C'ho di nuovo Il singhio Ti aiuto E Mi propongo Di andare Spesso a Roma Ho un progetto In testa Wow Sono contenta Perché era da tanto Che non sentivo Questo fricci Con il cuore Quindi vado avanti Con un progetto Che avevo in mente Da tanto tempo Che è un po' impegnativo Ci vorrà tanto Altro tempo Perché io concludo Questa cosa Ci sono tanti Nei cassetti I progetti Cominciati Poi stoppati Perché viene il covid Viene vedi Da 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 Du 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 Ecco Leggerò Perché voglio Trovarmi il tempo Per leggere Perché ha un piacere Immenso Sono felice Di andare in biblioteca Ieri sono andata In biblioteca E questo è il libro Che ho preso ieri Era lì Tra le nuove proposte Io giro A volte prendo qualcosa A volte prendo cose Che mi ordino Perché ho da Approfondire Degli argomenti E ieri Lui mi chiamava L'uomo Che amava i libri Un po' perché Il libro è blu Perché Ci sono gli occhiali Perché c'è blu E rosso E bianco Perché sono colori Mi piace Non so A me i libri Chiamano Non so se succede Anche a voi I libri Che ho tanto amato Mi hanno chiamato E ne ho andato A cercarli Sono andata Anche in una libreria La prima libreria Dove mi si piede In Biterbo Perché non l'hai più frequentata Perché a un certo punto Ho iniziato Una collaborazione Piuttosto lunga Di un annetto Quasi Diciamo Due stagioni Due stagioni Due stagioni E E quindi Ce l'avevo lì Eravamo lì Ero già lì Poi è andata A Ramingo E quella libreria Chiuso Tra l'altro E poi Sono zompata In altre librerie Dove sembrava Risentirsi a casa Poi a casa Non mi sono trovata Io ho bisogno Di sentirmi bene Nei luoghi Nelle librerie Soprattutto Altrimenti Me li ordino online Perché spesso Ci si risparmia Però il bello Della libreria Qual è? Che sì Abbiamo magari Dei titoli Che cerchiamo Per comodità Per opportunità Perché magari In rete Troviamo delle offerte Ecco Però c'è la menata Di dover stare Agli arresti domiciliari Per poter poi Ritirare il libro Vero che adesso Me li ordinano Anche in cartoleria E i libri Che ho regalato a Camilla Li ho ordinati in paese Ma Entrare in libreria Ma 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 Sentirsi circondata Dai libri Le librerie Quelle vere Sono qualcosa Di unico Di particolare Spesso Tipo In questa Poi c'è uno spazio Bambini Con dei balocchi Per bambini Ci sono delle guide Meravigliose Proposte di viaggi Di luoghi E poi Tanta narrativa Perché no E lì Camilla Io feci il primo Questo lì E regalai un libro A Camilla E anche un giochino Dal reparto bambini Dei giochi meravigliosi E E poi Una volta Ci portai Camilla A vedere quella libreria Perché mia figlia L'ho sempre portata Per librerie Anche quando era piccola Quando dicevo Andiamo a fare la spesa Lei già sapeva Che passavamo Dalla ludoteca Andavamo Alla gramigna Che era un negozio Di alimenti biologici E Che carini A Spezia E E poi Si passava In libreria Finché è rimasta aperta Alla Adel Poi siamo Vabbè Alla Ricci Ero già cliente Quando non trovavo Una cosa di là Andavo Alla Ricci Quando Insomma È venuto a mancare Il mio libraio Diciamo che L'erede Il figlio Che poi è stato Anche mio amico Insomma Diventa complicato Puoi frequentarsi A distanza Comunque No Il ciccio Mi ha onorato Perché mi ha Chiesto di Curare La mostra Dedicata al papà Per il centenario Della Camera di Commercio Di Spezia Per carità È stato un evento Meraviglioso Un'opportunità Bellissima Per me Però ecco Sono pa Poi l'ha chiusa La libreria Quindi sono rimasta Cliente Della Ricci In via Chiodo Via Domenico Chiodo Sotto i portici Vicino Un negozietto Di numismatica Dove acquistare Un libro Vabbè Poi ricomincio Con i ricordi E Quindi Le librerie Manifestano Una filosofia Manifestano Un pensiero Manifestano Molto Della persona È vero che Cercano Di proporre Argomenti Vari Di attrarre Clienti Diversi Di accontentare Clienti Diversi Lettori Clienti Lettori Diversi Però Ogni Le librerie In batteria Andate 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 Scusate Sembra Una roba E poi Qui Una freddezza Una cosa Ecco Io mi devo Sentire bene Sempre Perché altrimenti Come faccio Mi sento responsabile Quindi arrivano le persone Ma come Mi tratta Ma ecco Non aspetto I tappeti rossi Non è quello Non è la riverenza È proprio Anche trovare una persona Che la pensa In maniera diversa Che mi dia Spunti Di riflessione E che Si è disposto Ad ascoltare È una missione Avere una libreria È qualcosa Di meraviglioso Secondo me E quindi Quando abitavo I castelli Cosa frequentavo A parte la mia Meravigliosa Amata Biblioteca A Rocca di Papa Andavo La The Book A Genzano E con Valerio Dove ho fatto Anche Ho intrattenuto Ho fatto corsi Di maglia Di libreria Ho partecipato Ho fatto parte Di un gruppo Di lettura È stato bello Ecco Mi mancano Questi luoghi La libreria Per me È qualcosa Come per tanti Il panificio Che ne so Il panettiere di fiducia Il macellaro di fiducia La libreria La libreria Se devo fare Dei sacrifici Se proprio Mi trovo a corto Mi devo sollevare morale Mi compro un libro Non mi compro un profumo Non mi compro un rossetto Non manco li uso Non mi compro un mascara Ecco Non mi compro le scarpe Buoni Incubo per me Quando devo comprare le scarpe Non mi compro le borse Non mi compro vestiti Mi compro un libro Proprio Quando sono disperata Dico Quanto è proprio grave Questa disperata Quanto sono accorata Riesco a comprarmi un libro Posso comprarmi un libro Ok Prendo un libro Il libro Il libro è proprio Come i filati Sono due passioni Che sembrano simili Sono diverse Però ecco Libri e filati Filati e libri Sì 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 Forse più libri Non lo so Dipende dal momento Comunque Io sono circondata Dei libri Li adoro Il libro come oggetto Che bello Sono riuscita a restaurare Un libro Certo Non la perfezione Ne ho fatto solo uno Non ho l'esperienza Per fare davvero niente Riguardo al restauro Però l'ho fatto Ho capito un po' Ho scoperto cose Riguardo ai libri Che non conoscevo Ho sentito parlare Di carta Ho cucito il mio libro Il mio libro L'ho cucito Sono felice C'è poi un libro Dedicato A Luisa Spagnoli Da parte del figlio Scritto dal figlio E l'ho fatto io Dove un'associazione Presa un'associazione Culturale Itinerar Cultura A Viterbo Se volete provare Questa esperienza Ci vuole del tempo È un po' particolare Il docente Bisogna aver pazienza Perché mi fa morire È troppo divertente Dove ho partecipato Tra l'altro A degli incontri pomeridiani Al TED Il giovedì Le cene purtroppo no Perché io non ho i mezzi Per tornare a casa Non abbiamo mezzi pubblici Se non è coprifuoco Ok L'ultimo mezzo pubblico Alle 7.20 19.20 di sera Chi lavora I mezzi pubblici Dovrebbero essere Scusatemi H24 O il poco ci manca Ecco Se è un servizio pubblico Ci deve essere Deve coprire Tutte le fasce orarie Non avere dei buchi Di due ore e mezzo Nel pomeriggio Perdo l'autobus Alle 5.30 Ce l'ho poi Alle 19.20 È santa pace Siamo frazione di Viterbo Non si possono lasciare scoperti Non ci sono mezzi pubblici Trasporti pubblici Nei festivi Siamo due giorni Senza potersi spostare Dipendiamo dalle auto Allora Fate pace col cervello Amministratori belli Perché o le macchine sì O O O O Allora 30.30 Qua Bene Ora vi saluto Vado Corro Mezzorita Questo è il golfino Che sto concludendo A Camilla Devo decidere Come chiuderlo Sono coste Sono coste in movimento Coste 1 e 1 Semplici coste 1 e 1 Dove ho messo insieme Delle consistenze E mi permettono di avere Un mociolino Come vuole Camilla Però non troppo mociolino Perché siamo ancora Insomma è sempre un goccio Da stagione freddina Che lo potrei mettere Anche a primavera Per carità Ma ecco Devo vedere Come concluderlo La consistenza Che tipo di orlo fare Ma non farò orlo Non farò un vero e proprio bordo Ma devo dare consistenza Nella parte finale Quindi aggiungo un filato Aggiungo un filato Aggiungo anche un colore Lo faccio scuro O no Insomma sto qui a ragionare E devo correre E fare E fare E fare E fa Tra la lera E tra la lera Vi auguro Un buon mercoledì Vado Avevo tante cose da raccontarvi Ieri ho fatto un po' di foto Nella libreria Era tanto che non ci andavo Perché poi non ce l'ho sul percorso Io poi che vado Mi viene l'ansia Che voglio tornarmi a casa Perché Uffa Se voglio stare 5 minuti di più Poi mi tocca invece Starcene due E io invece poi Vorrei andarmene a casa Io sono cittadina Ero abituata A avere gli autobus Quando andava Che non ne passava Mezz'ora Ma a Spezia Noi avevamo gli autobus Ogni 15 minuti Santo cielo 15 minuti Ma quando andavo a lavorare Da ragazza Proprio Quando ho lavorato Da città Dai 14 Ai 20 anni Ecco Io avevo l'auto Un autobus Ogni 15 minuti Possibile mai Che adesso invece Dobbiamo aspettare le ore Per spostarci da una parte All'altra della città O nelle frazioni medesime Vabbè Si dice Le frazioni medesime Ora vi saluto Vado a mettere subito A collegare subito Il tablet Vi abbraccio Care Cari 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 Buona giornata Ecco Si è alzata la nebbia L'omino della nebbia L'omino della nebbia Ancora non si vede Io mi devo dare una mossa Devo andare a pulire fuori Devo fare 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 Alle tre Ho lezioni Tre e mezza Ho lezioni di tessitura Tre ore E c'è da fare Oggi abbiamo tante cose da fare Ciao Ciao A presto A niente caffettino L'ho preso per strada Ciao